Ciao a tutti, ci sono Mazzetese e ci troviamo in Five and Eight at Freddy Ehi la ciò ormai! Voglio voi cosa? Io sono il vero Mazzetese e siamo adesso registrando con action graditissimo presente del nostro carissimo Marco88 Grazie Marco! Hai sbagliato una cosa, non è un presente perché te l'ho regalato ben qualche ora fa quindi è passato Oh oh oh, le battute freddissime di Marco88 Ma comunque Marco un ultimo fa parlavi molto alto col volume Perché adesso hai abbassato il volume? Cioè, hai abbassato la voce? Stai parlando molto più piano No, non ho abbassato la voce Non ho abbassato nessuna voce Ecco, parla così Ti si sente bene? Comunque ho preso un cluster data Marco smaniava assolutamente per fare la missione dell'uomo nudo Per andare a salvare il tizio nudo Il tizio nudo ricoperto di gelatina rosa Esatto Chiamiamola gelatina E quindi Noi stiamo andando a fare quella missione E tra l'altro abbiamo potenziato la pistola dubstep E vi faccio vedere adesso che Spettacolo Dura molto di più la ricarica A parte che ci mette un attimo per farla partire Ma Cioè, guardate Abbiamo abbastanza Cluster dati per potenziare qualcos'altro Io potenzio Prima di andare E non ho potenzio dal massimo la mia pistola dubstep Cioè, guardate quanto due Allora Cos'è potenzio? Scarica Telecinesi Scarica Elementi Gelo Potenzio anch'io, allora Mentre sto precipitando No, ma non voglio potenziare Gelo Fuoco Esplosione Gioielli Ma elementi No, forza Per potenzialmente Telecinesi Potenzialmente Potenzialmente Ricarica veicoli speciali Blindati Aumentano le chevoli No, ma voglio vedere cosa c'è di altra roba da potenziare Non voglio sta Ho potenziato L'area di effetto io Di cosa? Di quella di ghiaccio Ah, io credo di averla già potenziata quella No, dov'è quella di ghiaccio? No, a livello 3 A livello 3 Potenzialmente Ma no, qua scarica Non è quella di ghiaccio Poteri Ah, no, elemento Sì Sì, area 2 Ah, no, area 3 ce l'ho bloccata Ho bisogno di livello 18 Io l'ho sbloccato Io l'ho sbloccato Ma sei di livello 18? Scusa Sì Ma io sono livello 15 Non so perché Non è possibile Eh, non lo so Mi sblocco La nata Efficiente Non posso Non posso Ho fatto un ricarico su telecinesi E boom No Non posso Ho finito già tutto Non è che avessimo poi chissà tanto di cluster data Eh E comunque Facciamo sta missione Sì Sì, stiamo perdendo tempo Dobbiamo andare a 240 metri Sai cosa? Sai perché ho fatto 18 livelli, mi sa? Perché ogni volta in quelle cose là Oh Dobbiamo uscire della simulazione Ogni volta che facevamo quelle gare E arrivavo quasi sempre primo E forse ci ha dato un po' di esperienza in più Ti ricordi? Ah, sì, è possibile Io sto arrivando Ma scusa Non devi selezionare dal cosa? Ah, avvia missione coop Sì No, scusa Mi hai inviti Mi sta picchiando la gente Tu accetta Tanto ti porto C'è la gente a caso Vabbè Ragazzi, questo è Saints Row Si è picciato dalle gente Questo è Saints Row Prima stavo camminando tranquillo E un tassista mi è passato di fianco Facendo ciuff ciuff Su serio Non ti ha detto che è il tassista Se non ci aiutiamo Matt Il tassista Sì Ma dai Non è neanche viola Bel pro bestia E' quello che si guarda Questa da censurare Si guardava il giornale delle tettone Ma non è un robot dei Saints Non è nemmeno Vabbè Vabbè Qui dopo lo coloreremo Allora Di rosa Con il sangue Degli alieni amici Ehm Non è rosa È viola Si vecchio Adesso ci faranno il tutorial Su sta roba qua E non spara sto coso Spacco tutto Via tutto Ma come vai a correre più così veloce Guarda spazio te se c'è un oggetto per salto CTRL riduce altitudine F spegni Ci siamo bloccati Continua a bloccarci Tra le porte In due Ma abbiamo solo attacchi corpo corpo Sì Ah sei tu credo fosse qualcun altro Non posso aspettare di mostrare questo a me Ma ci fanno dei danni o qualcosa? Non sto ricevendo praticamente niente Perchè sono... Perchè sono scarsi No perchè siamo roba Ah ma fai danno a dare in proprio con sta roba Oh sono entrato Eh a me stanno sparando Andiamo a cercare ciò Chi che hai la vita comunque Hai la vita muoviti Sì C'è qualcun altro? No Dove sei? Ma perché sei sempre avanti Tu corri C'erano ancora dei nemici Dove sei andato? Ah laggiù Devi fare una tappa qua perchè non basta Dai di te Io non rischio Di schiantarmi in quella cosa che non sono mille saletare No infatti è meglio non rischiare con queste cose Prenda calci sto schifo Prenda calci sto schifo No C'è della gente là? No Ah però perchè picchiavi per te? Perchè picchiavi per te? C'è Si vede che ha chiarato Guarda Aspetta mi stanno uccidendo Guarda i pulsanti delle porte Eh C'è un teschio che ride Guarda Non sono gli elinquenti Sì A merito suono ci sono delle casse qua in giro assi queste Ecco E' censuratissimo Ho paura di pupistarlo però Prendi Prendi Ho preparato un po' di vita Oddio dobbiamo difendere Prendi il matto Prendi il matto Perchè Sangtti Skrivano Prendi il matto Prendi il matto Prè Grazie a tutti.